No, 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 io voglio una spiegazione, io voglio una spiegazione, ma è mai possibile che a me mi stanno succedendo i miei disgrazi? Io non posso campare più, guarda, non posso campare più, ma perché proprio con me, tu pigli, proprio con me? Con me che venga una famiglia religiosissima, io tengo a mia zia che organizzava i pellegrinaggi per il padre Pio, e te tu mi fai questo a me per fare? No, 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 io ho già una spiegazione, io a casa non me ne faccio, io non ho già una spiegazione. Uè, no, mia amica stava gridando che, ho alzato un po' la voce, ma data lontananza, forse chissà stava facendo qualche altra cosa. Sì, ho chiamato che, ho chiamato, volevo sapere come è stato fatto, che a me mi stanno succedendo i miei disgrazi, a presa, a presa, guarda, io non posso campare più, io bestemmiavo, no, no, guarda, ti sbaglio, non ho mai bestemmiato. E quando è che ho bestemmiato? Ah, ah, mi ricordo, sì, mi ricordo, no, no, non sono stati, mi ricordo, ma non sono stati, no, è stato l'amico mio, guarda, eh, stavamo tutti e due, è stato, e lo so, tu sei in ogni luogo, ma si vede che si vede spalla e non ne hai visto. Ma, ma no, non sono stati, ma ti giuro, non sono stati, no, è stato l'amico, guarda, è che chi lo tenne, stupizzi, ogni tanto che si mette, mi dice, c'è la gitta pure, sta tu zitti che chi lo soppiglia con me, no, è stato l'amico, guarda, eh, e mettiamo pure che fosse stati, niente di meno, tutte le scatene di questa manetta, io non posso cambiare più, guarda, eh, sì, ma tu in fondo sai quanto ti stimo, no, ma vengono ammesso tutte le domeniche, ogni domenica sono in chiesa, eh, eh, vabbè, eh, vabbè, oggi avrei un film sporco, ma, ma oggi giorno i film sono tutti quanti così, eh, non ne hai visto, però, che appena sono uscito dal cinema, duemila lire al chilo povero, duemila lire al chilo povero, mi pare a me che, eh, ha già disubbidito a mio padre, chilo mio padre, oh, però tu mi controlla allora, scusa, eh, non lo so, eh, mi stai in cuore in cuore, però, sì, ma guarda lo poco pure al lato, ci faccio, ma pare che ce l'hai proprio con me, su fai, sì, ma guarda pure al lato, non guarda solo a me, sì, ma in fondo nessuno è perfetto, ognuno tiene le cose, non lo so, tu sei perfettissimo, a parte il fatto che tu pure hai fatto i sbagli tuoi, eh, secondo te l'ippopato mi è bello, l'hai combinate di quella maniera l'ippopato, la lascia stare, la lascia stare, ma ti pare bello che chi l'ha testa sempre in dall'acqua, di quella maniera combinata, no, no, pure l'elefante, eh, sì, l'elefante l'ha già sentito proprio, io che se lamentavo, eh, se lamentava, non lo so, no, riceveva, riceveva, guarda come mi ha combinato, eh, con il fatto che ci hai messo che la cosa annanza all'elefante, sì, ma perché ci hai messo che la cosa annanza all'elefante, eh, ci sono fatti che ci sono, ben fatti, poi volevo fare il pente, volevo fare, e fai fatti prima gli esperimenti a parte, scusa, ma no, ma no, per piacere, ma è logico, ma se tu sei sull'elefante, vuoi fare il pente, ti viene l'elefante con il pente, no, e no, si fanno a parte, no, tu tenivi l'eternità, non si fanno con la gamba, e facevi il coso per bene, no, no, secondo me è voluto fare un po' di spacconi, non lo so, qualche scommessa di nivo, qualcosa, ma non so cosa che si fanno in tasse, io, ma lascio, eh, vabbè, che sono animali, sono animali, che significa sono animali, no, che poi pure gli uomini si lamentano, sì, l'ha già sentito proprio, pica si lamentavano, eh, ricevono però, io pure hai sbagliato, hai detto, non ne sento, perché chi lo parla, non tutti è così, che mi ha detto, se lamentano, non lo so, hai fatto tutto cosa a favore lo ricco, quello povero è destinato agli all'inferno, oh, povero, ha da fare per forza, peccato, eh, ho fatto dei comandamenti, non desiderare la roba d'altri, ma passano ricco all'emmeria, che te ne ha desiderato il mio scuso, ma vuoi essere buono, no, ma, ma, ma lasci stare, so cosa, eh, non desiderare la donna d'altri, tu hai conoscito mia moglie, no? No, no, siamo d'accordo, siamo d'accordo, che si hanno fatto lo mio, sì, me lo dovevo guardare bene prima, siamo d'accordo, sì, uè, non fornicare, che significa non fornicare? Eh, tu sai che gli vodaggi fornicati senza sapere? No, no, non lo so, no, io pensavo ai formigli, che lo ha, eh, pensavo ai formigli, è venuto in un periodo che camminava così, ma l'ha già visto brutto, lascia stare, ma no, ma non lo so, ma non lo so, io dicevo, forse questo ci tiene particolarmente per i formigli, ma che ne sa, sì, ma perché gli scritti non fornicare? Ma tu lo spazi ottenivano, e le tavole erano grosse, e invece non fornicare, scrivi, non fate quelle, cioè, non fate quelle cose, non fate quelle cose sporche, a così capiamo tutto quanto, però, e tutto mi ha detto a scrivere non fornicare, ma chi è che capisci, non fornicare, scusa, è difficile, no, no, io so calmo, no, no, io so calmissimo, no, 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 ma tu pure quando eri giovane era così, subito ti nervosi, come no, come no, che la paura vogliono, proprio se mangiano meno, ma ci si succede lì, e Dio, e allora siamo calmi tutti quanti, e siamo calmi, no, sì, e va bene, ma allora siamo calmi tutti quanti, anzi, ero venuto qua per parlarti proprio di un'altra cosa, e tu le parla proprio di nato fatica, ecco di uno sta parlando, chissà, sì, agita, ecco di, ma, no, ecco di, mica è una bestemmica, ma no, l'agita in tutti i scorsi, no, io non tengo niente, no, io so buono così, no, me ne vado, no, no, io non tengo niente, me ne vado, no, no, sì, so buono, sì, me ne vado, sì, sì, no,